A Venafro una proposta per ravvivare un'area centrale della città riconsegnandola alla piena fruizione, soprattutto in sicurezza, della collettività, famiglie in primis. L'idea di un cittadino rivolto attraverso queste emittenti all'amministrazione civica prevede l'istituzione, nelle ore serali, di un'isola pedonale lungo corso campano. Tale soluzione sarebbe peraltro d'aiuto alle numerose attività commerciali ubicate in quell'area che, come tante altre in città e altrove, ogni giorno devono fare conti con la pesante crisi economica che continua a mordere. E in una fase in cui, verso l'amministrazione civica, si levano non solo dalla minoranza consigliare una serie di critiche di inattivismo, crediamo che una simile idea sia da prendere seriamente in considerazione da parte degli inquilini di Palazzo Cimorelli, anche perché è a costo zero. Nel mio piccolo posso semplicemente dire che basterebbe creare degli spazi che diano la possibilità a famiglie, giovani, di poter condividere il territorio, poter vivere serenamente e quindi senza traffico, senza problematiche per un bambino che possa semplicemente liberarsi in due secondi dalla stretta della mano di un genitore. Quindi creare un'isola pedonale, isola pedonale che spesso girando, avendo la possibilità di girare intorno sia in Italia che all'estero, noto che proprio queste isole pedonali fanno la ricchezza di città, di posti dove poi grazie a questo spazio aperto ai pedoni possono creare attività culturali, di musica culinaria, rappresentazioni teatrali. Ecco lei è un esercente, questa è la proposta, ma cosa invece potrebbero fare i commercianti per dare una mano? Potremmo investire insieme, tutti insieme, delle piccole somme che unite potrebbero far venire fare un concerto musicale, mettere dei gonfiabili per i bambini, fare una pista di pattinaggio anche soltanto in un weekend, d'inverno crearla di ghiaccio, le idee sono infinite.